Applicare la carta di trasferimento, application tape, sul film intagliato e spellicolato. Posizionare il tutto senza rimuovere il backing, fissando le due estremità con dei piccoli pezzi di nastro adesivo di carta. Fissare poi, con una striscia di nastro adesivo, un intero lato della decorazione. Liberare la parte opposta del nastro adesivo, risvoltare su se stessa l'intera decorazione e rimuovere interamente il backing, tenendo sollevata la decorazione. Cominciare ad applicare la decorazione partendo dal lato fissato con il nastro adesivo e spatolare con movimenti sormontati decisi e regolari. Rimuovere l'application tape con forza costante e con angolo di distacco compreso tra i 15 e i 30 gradi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!